come controllare i contenuti che vengono in maniera corretta su linkedin sono pamela nerattini mi occupo di formazione consulenza linkedin comunicazione interna attraverso il business coaching molte volte noi abbiamo bisogno di programmare i post su linkedin dobbiamo creare il nostro piano editoriale e ci facciamo aiutare da dei tool come possono essere hootsuite come può essere post pick proprio per riuscire a programmare e quindi a mettere in anticipo i nostri post sorge però sempre un problema moltissime volte oltre al fatto che non sempre possiamo mettere tutto quindi i sondaggi per esempio a volte non si riescono a mettere non si riesce bene a taggare non riusciamo magari ad inserire dei pdf mentre su linkedin nativo questa cosa è possibile e siccome non è possibile programmare come viene invece in facebook e ora anche instagram direttamente sulla piattaforma allora bisogna trovare degli scamotage il mio consiglio è questo ricordiamoci sempre che i post una volta pubblicati la parte di copy può essere modificata non possono essere modificate però i video non possono essere modificate le foto non possono essere modificati pdf quindi tutto ciò che è allegato non può essere modificato e quindi nel caso di un errore bisogna rifare il post togliendo tutta la visibilità che fino a quel momento c'è stata e l'interazione che fino a quel momento c'è stata quindi proviamolo prima cosa possiamo utilizzare sapete che esistono gruppi ed eventi che hanno un'altra funzione ma noi possiamo utilizzarli per andare a provare i nostri contenuti e vedere se l'immagine viene fuori correttamente se la copertina del nostro video viene fuori correttamente se i pdf vanno bene possiamo anche utilizzarlo per quello che abbiamo pensato di andare inserire e averlo già lì pronto dovendo fare soltanto un copia e incolla quindi se noi creiamo un gruppo privato dove ci sono solo io o un evento privato dove ci sono solo io io posso andare a creare dei post in quelle bacheche che sono per me sempre utilizzabili sempre visibili e non sono visibili da nessun altro nel caso in cui invece fossimo un'azienda e quindi dovessimo condividere con il team un altro buon modo molto facile è quello di creare gruppi o eventi con queste persone sempre privati ma con queste persone partecipanti in modo tale che anche gli altri possano vedere e cambiare modificare o crearne altri tutto quello che sono i nostri contenuti che vorremmo andare a poi pubblicare questo è un ottimo modo perché esattamente come viene fuori nei gruppi o negli eventi verrà fuori su linkedin quindi sul nostro feed che sia aziendale o che sia privato provate questo trucchetto e ditemi cosa ne pensate sempre qui nei commenti oppure potete iniziare a seguirmi su linkedin o seguire il mio canale youtube e potete chiamarmi per consulenza e formazione buona giornata a tutti ciao